Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola nelle vicinanze di città della Pieve, no? Cioè come alternativa all'inquinamento urbano, cioè inteso non soltanto come scoria eccetera, no? Cioè però inteso anche come inquinamento morale, cioè capito in che senso? No, grazie. Ma guarda che non c'è niente di politica in questo, cioè nel senso che noi siamo completamente al di fuori di certi giochi di potere, capito? Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica. Ma che dovresti uscire anche senza soldi. Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste? Sì, sì, le trovi giuste, le trovi giuste, le trovi giuste, le trovi. Qua dietro c'è descritto il nostro indirizzo di città della Pieve, capito? Così eventualmente ci puoi scrivere d'accordo. Ciao, buona giornata. E però tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga. Ma sai che con due gettoni è difficile compresse la droga? Comunque è un tipo di esperienza che non ci interessa. Buona giornata. E tu che dici? Ma che ne sai pure la droga? Che ne sai di queste cose? Permetti una parola. Con l'aria condizionata mi dispiace. Buona giornata. Ciao. Noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola vicino a città della Pieve, cioè come alternativa all'inquinamento urbano inteso non soltanto come scorie, eccetera. Sono sette giorni che ti stai a fare tutti i semafori, tutti i pizzi di roba. Basta, no? Non ti vado, ti incontro, ma a farla finita, no? Va beh, comunque ciao. Buona giornata. Ciao, ti saluto.